Calano gli infortuni sul lavoro in Valle, dove da oltre due anni non ci sono incidenti mortali. Ne abbiamo parlato con il direttore della sede regionale dell'Inail, Giuseppe Villani, il servizio è di Francesca Caria. Buone notizie sul fronte della sicurezza sul lavoro in Valle d'Aosta. Nel 2015 ci sono state 1574 denunce, il 90% per infortuni, il resto per malattie professionali, con un calo del 6,6% rispetto al 2014. Il trend positivo si conferma anche nel primo trimestre di quest'anno, con una riduzione di circa il 4% rispetto allo stesso periodo del 2015. Non è tutto. Abbiamo avuto zero incidenti mortali nel 2015 e zero incidenti mortali nel 2014, e naturalmente anche in questo primo scorcio del 2016. Un risultato raggiunto anche grazie ad un'importante opera di prevenzione. Sono state fatte nel 2015 508 verifiche, che di per sé è un dato che dice poco, ma che rappresenta praticamente in proporzione alle verifiche effettuate all'arresto d'Italia il doppio della media nazionale. Si tratta di verifiche, diciamo, di messa in opera, di gru in particolare, di impianti elettrici, di macchine a pressione. E' importante anche dire che le verifiche non sono finalizzate alla sanzione, ma sono finalizzate alla prevenzione, nel senso che i tecnici che partecipano a queste verifiche hanno come scopo, e lo scopo poi della missione dell'Istituto, è quella di aiutare le imprese, in particolare le microimprese, a prevenire incidenti sul lavoro, in modo tale da avere apparecchiature che siano idonee a consentire di lavorare in sicurezza. C'è però anche qualche ombra. La diminuzione degli infortuni è un dato che si può leggere in due modi. Da un lato il miglioramento delle condizioni di lavoro, o delle verifiche, delle ispezioni sui livelli di lavoro, ma dall'altro in realtà, e questo abbiamo la controprova nelle aziende che sono sottoposte alla verifica dell'Ineil, della crisi economica, dunque della chiusura di aziende, soprattutto nel settore di Ile, che è evidentemente quello più a rischio dal punto di vista degli infortuni.